buongiorno ma che è? ma che non basta scocciare i piatti? ma buongiorno ma che buongiorno sto cazzo all'improvviso viene lavorando le rette con sta tromba di lì? buongiorno ma ti sciacca dico io nooo fuori casa per sempre e solo può venire non ho anche invitato chi vuole vuole venire a pranzo da me allora oggi gli fammi una sorpresa dai faccia pranzo fuori oggi va bene? grazie tantissimo va bene? va bene ciao grazie grazie a te buon patate grazie tagliatelle fatte in casa amatriciana tortina al formaggio con patate e erba al top eh nonna marie eccolo è arrivato come sei messo a sudoku? benissimo benissimo eh? c'è fame? si c'è sete? no come no? adesso mangiamo e bevemo eh va bene? girate di scatto tipo vai mamma mia mamma mia che influenza un altro scatto girati vai mamma mia che sguardo no? 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 Grazie.